La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno e buon giovedì, ben trovati con l'appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, siamo sulla prima pagina del mattino nazionale, in primo piano si parla del decreto migranti, l'accordo in Unione Europea è arrivato, soddisfatta anche la Premier Meloni. Vediamo infatti il titolo, migranti, l'Unione Europea trova l'intesa, così apre oggi il mattino, passa la linea italiana, stop alle modifiche chieste dalla Germania a sostegno delle ONG, vissi al ricollocamento di profughi in caso di flussi massicci o fondi agli stati di emergenza. La Germania fa dietro front sugli aiuti alle ONG e così si è raggiunto l'accordo tra i 27 paesi europei sul testo chiave del regolamento delle crisi sui migranti, passa dunque la linea italiana sul ricollocamento e fondi. E poi ancora in alto De Luca, comuni a rischio di sesto, fitto, basta assegni in bianco alle regioni. Non è vero che la ZES unica andrà in direzione opposta rispetto alla riforma dell'autonomia rafforzata delle regioni. Il decreto sud al contrario rafforzerà la responsabilità dei presidenti delle regioni sui progetti relativi ai loro territori. finisce la stagione degli assegni rilasciati in bianco senza verifica puntuale di cosa alla fine è stato realizzato. Lo dice il ministro del sud Raffaele Fitto e il governatore Campano De Luca in campania a 200 comuni a rischio di sesto. Questa è la risposta di De Luca. Andiamo di fondo l'analisi Nuova Europa senza primi della classe e poi la riflessione perché offerta e domanda non si incrociano. Nella fotonotizia invece la tragedia di Mestre con il bus precipitato dal cavalcavia. vediamo un malore dell'autista dietro la strage del bus. Mestre nel mirino il guardrail usurato e basso. E poi ancora siamo nel napoletano. Campi flegrei più controlli. Oggi le norme potenziata la protezione civile. Manfredi più poteri ai sindaci. Il bradisismo e c'è il decreto in consiglio dei ministri. Per quanto riguarda la cultura siamo di spalla. Premio Mazzucco. Serau la forza di andare oltre i cliché. Poi sul mattino con il mattino oggi gratis lo speciale su Donna Matilde. In basso il calcio Dela. Segnali di pace a Osima. Si apre il caso Mario Rui. Il post real è il futuro del nigeriano. In alto invece nei box sotto il titolo di testate. Il libro Nesil, Lupo, i lupi dentro di una generazione sulla via del declino. E poi la polemica dei Giovanni sui social. Io Prezzemolino mi vedrete di meno. Questa è la prima pagina del mattino nazionale. Andiamo ora invece sulla prima pagina del mattino di Salerno. Quindi vediamo quali sono i titoli per il salernitano. In apertura Salerno. Il dossier città che invecchia. Crollo della natalità e fuga di cervelli. Così si allarga il divario tra over 65 e giovani. Nel capoluogo 214 anziani ogni 100 adolescenti. E l'indice più alto tra i grandi centri campani. La memoria premio cacciatore per studenti universitari. Arriva il bando e poi l'inchiesta bonus facciate. 33 indagati per la truffa da 12 milioni. Truffa da oltre 12 milioni di euro con il bonus facciate per lavori mai eseguiti. Scoperta dalla Guardia di Finanza nel Cilento. Sono 33 le persone indagate residenti nelle province di Salerno. In particolare Agropoli per difumo e Castellabate. Napoli e Lecce. Ritenute responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Finanzieri del comando provinciale di Salerno. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. hanno dato seguito ad un sequestro preventivo nei confronti degli indagati. Andiamo di fondo. Non c'è da inferiore. Energia scrocco ai danni dell'Enel. Nei guai 17 tecnici e imprenditori. Ad Agropoli partecipate. Rinvio a giudizio per Coppola e altri 5. Spostiamoci ora a centro pagina. La violenza, abusi nel locale, la turista denuncia, giallo in costiera, la 23enne tedesca avvicinata da un senegalese che ha provato a baciarmi mentre ero in bagno. E poi ancora i dubbi degli inquirenti, il caso poi, stupro di coppia, la fidanzata alla vittima, eravamo brilli. Andiamo nella fotonotizia. Il calcio rilancio Granata, patto in pizzeria, Sosa convoca i giocatori in un ristorante, Sprint Candreva. In basso invece vediamo discariche di rifiuti e topi, rabbia e proteste da Villa Carrara a Porta Rateprandi. Una mortificazione, una città abbandonata in balia degli incivili, l'allarme continua e questa volta riguarda interi quartieri del centro della zona orientale. Questa volta a scendere in campo è il capogruppo di Forza Italia Roberto Celano che in una nota indirizzata al primo cittadino Vincenzo Napoli evidenzia la situazione di criticità in cui versa Villa Carrara. Andiamo poi nelle fotonotizie, sempre in basso, Maria Rosa, ultimo saluto, pensiamo ai suoi figli, il femminicidio di Battipaglia e poi il delitto di Capaccio uccise nonna Gilda, nipote messa alla prova. Chiudiamo questa pagina, vediamo ora i titoli per il quotidiano, le cronache, vediamo quindi quali sono i principali argomenti. In apertura vediamo Salerno, scoppia la rivolta, uffici ASL nel focaccia, nessuno ci ha detto niente e non ci sono spazi. E poi per quanto riguarda invece il caso di Campi Flegrei, oggi il governo vara il piano evacuazione, De Luca, bene Musumeci. Andiamo a centro pagina, l'intervento di Alfonso Malangone, una vita di finzioni, siamo adesso sulla strada di non ritorno, la provincia di Salerno al terzo posto per decrescita demografica. Per le altre notizie, Salerno, Pietro Costabile, nuovo vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia. E poi la storia, bisdificio dell'Aspide, eccellenza made in Campania, ancora ad Agropoli, Cilento Servizi, a processo anche Mimmo Gorga. Continuiamo, siamo ora di spalla, un progetto già testato a Salerno con successo, Agnello Salzano dopo il convegno di azione, voglia di centro, noi popolari siamo aperti al confronto con tutti. Per il calcio, ottobre di fuoco per i granate, i tifosi invocano la svolta. Questa è la prima pagina di Le Cronache, torniamo ora sul mattino nazionale, quindi andiamo a vedere quali sono le notizie di primo piano, partendo dall'incidente di Mestre con il bus che è precipitato da un cavalcavia. Vediamo Mestre Inferno in 34 secondi, l'ipotesi malore dell'autista. Qui vediamo le immagini scattate dai video che circolano in riferimento proprio al momento in cui il bus precipita dal cavalcavia. Nessun segno di urto o frenata, sotto accusa anche il guardrail, riconosciuti i 21 morti, 9 sono ucraini, Salvini, riflettere sui motori elettrici. Scusate, i feriti andavano piano, aperta una inchiesta per omicidio stradale plurimo, non escluso il guasto del mezzo. E poi andiamo in basso, il mistero di Alberto che amava guidare l'ultimo posto, navetta, verso Venezia. Era considerato un conducente esperto e professionale, gli piaceva stare tra i turisti. Qui vediamo poi l'immagine del bus caduto nel momento in cui viene risollevato dai soccorsi. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, continuiamo però sul tema dell'incidente di Mestre. Vediamo quali potrebbero essere le ipotesi che potrebbero aver provocato il grave incidente. Vediamo la fragilità del guardrail, era previsto l'intervento per la sua sostituzione. Questo è il titolo su questa pagina di primo piano. Cosa quindi non ha funzionato? La struttura alta solo a 55 metri doveva essere portata fino ad 1,40 metri. Il comune ha investito 6 milioni e mezzo sul cavalcavia ma si poteva fare nel 2014. Il viadotto fu ceduto dall'ANAS 15 anni fa. La relazione del progetto chiedeva l'adeguamento della protezione. E poi ancora in batto e si riapre il dibattito sul motore elettrico. Se prende fuoco è più difficile spegnerlo. L'esperto, le procedure antincendio per i veicoli green sono ancora troppo complesse. L'autobus caduto dal cavalcavia aveva l'autonomia di 400 chilometri. I pacchi batteria erano sul tetto. E lasciamo questa pagina. Andiamo avanti ma cambiamo argomento. Parliamo ora, affrontiamo ora il tema dei migranti. Come abbiamo visto anche dalla prima pagina in Europa. È stato raggiunto l'accordo per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori. Soddisfatta la Premier Meloni. Vediamo, accordo Unione Europea sui migranti, Meloni non siamo isolati sulle ONG, ci danno ragione. La soddisfazione di Palazzo Chigi passa la nostra linea, non decidono gli scafisti. Il Premier PD allergico alla democrazia, vogliono un tecnico anche al posto di Schlein. Sul MES insiste, non ho cambiato idea, la discussione non ci fa bene. E sui PM preoccupa la difesa corporativa. La Germania, come abbiamo visto, fa dietro front sugli aiuti alle ONG. E così è stato raggiunto l'accordo tra i 27 paesi europei sul testo chiave del regolamento delle crisi sui migranti. Per arrivare al compromesso in particolare è stato rimosso il riferimento alle organizzazioni non governative che la Germania aveva inserito nel testo precedente e aveva anche dichiarato nel Consiglio Affari Interni del 28 settembre che quella clausola costituiva per Berlino una linea rossa. Il riferimento esplicito alle ONG mirava ad evitare in sostanza che possano venire accusate in futuro di uso strumentare delle migrazioni. Ora quel riferimento è stato rimosso. Gli affondi con tono meno grave e quasi sorridente. Meloni a Sky affonda il colpo. Al PD piacciono così tanto i tecnici che metteranno un tecnico al posto della Schlein. Sul messo non ho cambiato idea. Questo è un dibattito che non fa bene all'Italia. E lasciamo questa pagina. Ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani salernitani. Sul mattino di Salerno, come abbiamo visto anche in prima pagina, c'è il dossier per quanto riguarda la popolazione salernitana, una popolazione sempre più anziana rispetto invece al numero dei giovani di Salerno. Vediamo il titolo per quanto riguarda il dossier. Più over 60 che giovani, così Salerno invecchia. Dossier di open policy, il divario si allarga. Sono 214 anziani in città. Ogni 100 adolescenti. Crollo della natalità e fuga dei cervelli. L'indice più alto tra i capoluoghi campani. Stesso scenario. Nella provincia, la concentrazione più alta di anziani è nel piccolo centro di Valle dell'Angelo. Andiamo a centro pagina. La sanità. Proroga per i medici a gettone per altri tre mesi nel pronto soccorso. La decisione dell'Aslo per evitare il rischio di stop all'assistenza in attesa di assumere 35 camici bianchi nell'emergenza. E poi siamo in basso. Premio cacciatore per studenti e universitari. C'è il bando, così la società di storia patria, ricorda il filosofo ed ex presidente, scomparso a marzo. Previste due sezioni. Lasciamo questa pagina. Andiamo avanti. Ancora sul mattino di Salerno. Vediamo per la pagina di cronaca. La violenza e le indagini. Siamo ad Amalfi. Abusi sessuali. Il turista denuncia un senegalese, giallo in costiera. La ragazza tedesca, avvicinata dall'uomo, mentre va in bagno, ha provato a baciarmi. In un video ripreso dalla sua amica, il quarantenne la strattona e la tiene per i polsi. L'immigrato lavora regolarmente da anni ad Amalfi, vive con la famiglia ed è conosciuto i dubbi degli inquirenti. Andiamo poi in basso. I verbali, fidanzati accusati di stupro. Eravamo tutti ubriachi, ma abbiamo sbagliato. Le conversazioni della ragazza con la vittima. Ciò che è successo rimanga tra noi. Lui non ricorda nulla. E lasciamo questa pagina. Continuiamo ancora sulle pagine del mattino. Siamo sulle pagine delle notizie della Piana del Sele, dei Picintini, del Cilento e del Vallo di Diano. In apertura siamo in Cilento. Con l'operazione della Guardia di Finanza che ha individuato i furbetti del bonus facciata. Vediamo. Truffa bonus facciate, sequestro da 12 milioni e 33 persone indagate. Mancata esecuzione di lavori su edifici tra Cilento e la Puglia. Guai anche per i committenti consapevoli degli interventi fittizi. Truffa da oltre 12 milioni di euro con il bonus facciate per lavori mai eseguiti scoperta dalla Guardia di Finanza del Cilento. Sono 33 le persone indagate residenti nelle province di Salerno. In particolare stiamo parlando di Agropoli, Perdifumo e Castellabate, Napoli e Lecce, ritenute responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno dato seguito ad un sequestro preventivo d'urgenza nei confronti degli indagati accusati di aver generato, ceduto, ovvero compensato, crediti d'imposta inesistenti relativi al bonus facciata. Andiamo poi a Capaccio Pestum. Blitz notturno alla scuola di Gromola. Ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì all'interno della scuola primaria di Gromola e dell'infanzia in località Precujali che fanno parte del locale comprensivo di Capaccio Pestum. I malfattori sono entrati nei locali di Piazza Borgo dopo aver forzato una finestra portando via dei soldi, 25 euro custoditi in un armadietto, diverse le aule sotto soquadro ed imbrattate con urina. Andiamo a centropagina. Ad Agropoli partecipate l'ex sindaco e altri cinque a giudizio, mentre in basso siamo nella Piana del Sele, a Battipaglia crisi nera per la maggioranza francese, dissidenti solo un gioco di poltrone. A Eboli, nuovo ospedale, Conte scrive ad Asl e Regione. Vediamo invece le notizie di Spalla. Padula, beccato con la coca, 35enne ai domiciliari e poi Ponte Cagnano-Faiano, fuochi e botti, Lanzara firma l'ordinanza che li vieta. Queste alcune delle notizie pubblicate sul quotidiano il mattino di Salerno. Andiamo ora invece sulle cronache e andiamo sulle pagine dell'area sud Salernitano. In particolare siamo a Eboli, come abbiamo visto anche dal mattino. Si parla della sanità ed in particolare del futuro dell'ospedale di Eboli. Vediamo il sindaco Conte, pronti ad impugnare gli atti. Il primo cittadino ha indirizzato una richiesta di confronto a De Luca e a tutti i consiglieri regionali eletti nel Salernitano. Il sindaco rinnova la richiesta di incontro che arriva dal comitato per l'ospedale unico. Contattati anche Cammarano, Picarone, Matera, Pellegrino, Tommasetti e Volpe. E poi l'iniziativa del PCI raccolte firme per la delocalizzazione. Per il PCI di Eboli l'unica strada per l'ospedale cittadino e la raccolta firme per la delocalizzazione. La delibera realizzazione nuovo ospedale di Battipaglia a firma del DG ASL di Salerno Gennaro Sosto sancisce la fine dell'illusione dell'ospedale unico. Si farà invece l'ospedale di Battipaglia su terreni della regione. Quindi quali le priorità della regione per l'ospedale di Eboli? Andiamo in basso la polemica mensa scolastica ancora ferma per il PD. La maggioranza mente l'opposizione raccoglie le lamentele. E poi l'evento migliaia di curiosi appassionati ad assistere alla due giorni dedicata a Sport Open Day, un appuntamento patrocinato da Comune, Provincia e Regione. E siamo sempre a Eboli. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sulle cronache. Anche qui troviamo la notizia di cronaca relativa all'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto la truffa dei bonus facciata. Vediamo il titolo. Ad Agropoli truffa col bonus facciata. La Guardia di Finanza scopre una fitta rete nel Cilento. C'è stato sequestro preventivo di autovetture, conti correnti e beni immobili per due milioni e mezzo di euro. Una società di consulenza amministrativa neonata aveva variato il proprio oggetto sociale. E continuiamo ancora per quanto riguarda l'intervento del consigliere della Lega Aurelio Tommasetti. Sanità adesso rischia anche il South di Piaggini. Aurelio Tommasetti della Lega, solita scelta incomprensibile dopo il South di Gioia. Anche quello di Piaggini diventa un caso. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, con un'interrogazione al governatore De Luca, l'assessorato regionale alla sanità, sposta l'attenzione sul presidio sanitario di riferimento della Valle del Calore e Alburni a seguito di numerose segnalazioni giunte dai cittadini di Piaggini, Sacco, Valle dell'Angelo e Laurino, oltre che zone limitrofe. Il consigliere in Quota Lega raccoglie la denuncia del sindaco di Piaggini, Renato Pizzolante, appello che non ha avuto alcun esito, manco a dirlo, da parte dell'azienda sanitaria locale di Salerno. Al Comune non sarebbe stata comunicata la decisione degli enti preposti di utilizzare i sei medici del South su un'auto medica. Questa è la denuncia di Tommasetti. E lasciamo questa pagina, spostiamoci ora sulla pagina dello sport. Vediamo per quanto riguarda la Salernitana. Salernitana, un ottobre decisivo, prima di un novembre da brividi. In questo mese Granata si giocheranno tanto contro Monza, Cagliari e Genoa, prima di un autentico Tour de Force contro le Big di Serie A. Domenica contro i Brianzoli, il primo crocevia, soprattutto per Sosa. Poi, dopo la sosta, i due scontri diretti contro i Sardi e i Liguri, che potrebbero pesare sulla stagione. E poi andiamo in basso. Chi è l'arbitro per la gara della Salernitana contro il Monza? Riecco Massimi a Lecce regalò il rigore del 2-0 finale a Lecce. In equilibrio il bilancio con il fischietto di Termoli, un pari, tre vittorie ed altrettanti KO. Questa è l'analisi sull'arbitro. E con questa pagina termina la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo l'appuntamento con il Tg alle 13.45. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata. Grazie per aver guardato il video.